Razao, come stai? Bene? Bene, bene. Come va con la rodiglia? Bene, il ginocchio va bene. Sì, oggi fa due e mezzo che ho fatto l'intervenzione, tutto a posto. Ok, adesso sei venuto qua per la visa, no? Sì, sì, anche per parlare con loro, sta tutto bene. Ok, com'è la situazione? Ancora non so, parliamo domani e vediamo che puoi fare. Ma tu resti al Cruzeiro adesso e poi dovresti ritornare all'Inter, no? Sì, sì. C'è sempre il sogno di poter esordire un giorno l'Inter? Sì, 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 è il mio sogno di bambini, ma adesso bisogna lavorare per tornare bene il ginocchio e per non cegli infortuni più. Vabbè, bocca al lupo allora, se vuoi salutare gli interisti, non so. Crepi un saluto a tutti gli interisti e vediamo presto.